E proprio qui nella zona del circolo tennis su Viale Ovidio, da qui ci si ricongiungerà con un tronco stradale proprio su piazza Battaglione Alpini dove c'è la fontana luminosa. Il comune vuole accelerare a tutti i costi la realizzazione di quest'opera che è stato oggetto anche di vari, tra virgolette, referendum sui social. Tanta gente voleva questa riapertura perché si guadagneranno spazi importanti, soprattutto si tenterà di congestionare il traffico in un'area molto trafficata della città, dove spesso ci si lamenta anche per i parcheggi selvaggi. L'area della fontana luminosa avrà una nuova viabilità perché il tratto di Viale Ovidio, chiuso ormai da anni, sarà riaperto con fondi del PNRR. Dopo che era chiuso da anni, la chiusura risale addirittura all'amministrazione guidata da Biagio Tempesta. Con questo collegamento tra Viale Ovidio e piazza Battaglione Alpini cambieranno le cose in una delle zone ad oggi più congestionate. Uno degli obiettivi è proprio quello di snellire il traffico, considerata l'alta concentrazione di attività in zona, commerciali, sportive e università. Il costo dell'opera è di circa 600 mila euro. Il comune ha appena approvato il progetto esecutivo. Sarà realizzata una strada di collegamento, rieprendo il tratto chiuso, ma ci sarà anche una nuova pubblica illuminazione verde attrezzato a riqualificare un po' la zona. Per il comune si tratta di un'opera importante, perché sono previste pure pensiline per le ricariche di bici elettriche e una pista ciclabile. Al lato del parco attualmente esistente ci sarà il percorso pedonale, a fianco quello ciclabile. La zona della Fontana Luminosa, due passi dal castello, è divenuta molto frequentata. Spesso ci sono state lamentele anche per i parcheggi selvaggi che arrivano a lambire i monumenti. Con questo provvedimento si spera di ridare un ordine a tutta la zona.